ghiacciato dove sono i dolcetti secondo me sono nel contenitore popcorn 2 controlliamo e non mi dispiace controlliamo nella scatola 1 eccoli qua calore dove sono i dolcetti secondo me sono nella scatola popcorn numero 1 controlliamo oh no anche tu non hai indovinato verifichiamo sotto il contenitore numero 2 se ci sono i dolcetti ghiacciato dove sono i dolcetti sì ghiacciato dove sono i dolcetti io non lo so lo so io nel tuo pancino no no non sono il pancino ma se sei tutto sporco tutto sporco e no e non sono sporco è un'impressione